In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Buonasera cari telespettatori, buonasera e benvenuti a Forum Imprese. Stasera parleremo con due imprenditrici di successo, ma prima di presentarvele voglio ricordarvi che se volete rivedere i video di queste trasmissioni basta che andate su internet www.centurionpayroll.com Bene, adesso vi presento Angela Marazzina, buonasera, presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza dell'azienda Magis S.p.A. Abbiamo poi il piacere di ospitare la prima maître chocolatier donna al mondo che è Cecilia Tessieri-Rabassi, titolare dell'omonima azienda. Buonasera. Buonasera Cecilia, ecco parto proprio da te. Come mai la prima donna maître chocolatier al mondo? Perché quando ho iniziato io questo lavoro, questo mestiere, circa 30 anni fa mi sono trovata in un mondo di uomini, quindi sono andata a imparare questo lavoro e avevo sempre a che fare con uomini. Quindi è stato un percorso proprio voluto, desiderato, perché in questo mio cioccolato ho cercato di esprimere molto anche della femminilità. Bene, poi ci racconterai meglio un po' la tua azienda. Ecco, Angela Marazzina invece, Magis S.p.A. è un'azienda di Pavia. Di che cosa vi occupate esattamente? Noi ci occupiamo di logistica integrata, due parole che insieme sembrano un qualche cosa di estremamente complesso ma che in realtà sono un'attività. Noi facciamo logistica integrata da tantissimi anni. Mio padre ha cominciato 50 anni fa da una piccolissima azienda di trasporti, è l'ultimo di nove fratelli e poi ci siamo sviluppati, modernizzati fino ad arrivare da circa 30 anni gestiamo per conto di clienti terzi tutta l'attività e la supply chain che parte dall'arrivo della merce direttamente dal cliente, la stocchiamo, la movimentiamo, la prepariamo in magazzini di proprietà e la distribuiamo ai clienti finali. Ci piace un po' definirci come dei sarti nel nostro mestiere perché quello che ci diversifica dalle tante altre aziende di logistica che ci sono è un po' la personalizzazione del nostro servizio che quindi curiamo e creiamo su misura per il cliente. Ecco e tra i vari clienti vantate anche proprio le aziende del cioccolato che stoccano i loro prodotti da voi. Esatto perché noi siamo specializzati in logistica di prodotti alimentari quindi anche a temperatura. Noi abbiamo circa 40.000 metri quadri coperti a Pavia e gestiamo anche un altro cliente a Corsico in provincia di Milano ma a casa loro e abbiamo magazzini a temperatura in cui gestiamo per lo più cioccolato per conto di una nota azienda italiana e anche vari tipi e specialità alimentari tra cui beverage, food, spirits e altri tipi di specialità alimentari. Ecco Cecilia Tessieri-Ravassi che cos'ha di speciale il cioccolato da te prodotto? Allora il cioccolato che produco è diciamo fatto a mano perché nella selezione che curo direttamente perché ho deciso in questa nuova evoluzione del mio percorso di fare un cioccolato in piccoli lotti di produzione dove io parto dal controllo dei semi che ho selezionato nelle varie piantagioni, li controllo direttamente e anche li tolgo quelli che non vanno bene a mano e poi il processo parte utilizzando tutte le materie prime eccellenti. Inoltre c'è una grande innovazione che ho creato che è quella di far passare i semi di cacao scaldandoli in dei contenitori in alabastro che è una pietra toscana di Volterra molto particolare e immediatamente dopo passati nel marmo. Quindi un passaggio che ha temperature diverse del cacao che dà nel cioccolato finale un gusto molto particolare e unico. Ed infatti lo posso confermare perché ho assaggiato il tuo cioccolato e l'ho trovato molto diverso da quello diciamo industriale tra virgolette. Ecco ma anche il mondo della logistica è un mondo molto maschile. Assolutamente, assolutamente sì. Io sono nella mia famiglia assolutamente la prima donna a arrivare a gestire comunque un'azienda nonostante comunque arrivo da una famiglia numerosissima ma oltretutto un settore quello della logistica che ha poco a che fare con le caratteristiche fondamentali di una donna che forse sono il sentimentalismo, il coraggio, la fantasia. E appunto proprio a me piace raccontare che io ho cercato e cerco quotidianamente di metterci questo nella mia azienda, cosa che magari è gestita profondamente da maschi, da uomini pur nella loro estrema capacità di gestire, magari questo mancava un po'. Quindi la donna diciamo apporta valori un po' differenti. Assolutamente, quello che sono sì, sicuramente il coraggio e la fantasia in primis ma anche forse l'occhio femminile. Anche nella cura del cliente. Assolutamente, certo. Ecco, per un metro cioccolatino cosa sono i valori più importanti nel lavoro? Dal mio punto di vista sicuramente il controllo sempre delle materie prime e anche l'approvvigionamento quindi cercare, se parliamo di cacao, di acquistare direttamente nelle piantagioni pagando anche il cacao dei prezzi migliori direttamente ai contadini, questa è una cosa che ho sempre fatto in tutti questi anni del mio lavoro e nello stesso tempo la grande creatività che però non solo fine a se stessa nel fare il cioccolato che ci piace a noi ma cercare di avere sempre un occhio verso il cliente e quindi dedicare a lui i nuovi prodotti che si creano giorno dopo giorno. E queste piantagioni di cioccolato, per curiosità, dove sono site nel mondo? Allora, le piantagioni del cacao chiaramente si trovano lungo la fascia equatoriale quindi dalla parte sudamericana fino ad arrivare in Asia sicuramente le qualità migliori però oggi si trovano nel Sud America e lì c'è veramente una grande storia, una tradizione di coltivazione. Ma quindi devi viaggiare, cioè devi muovere proprio? Certo, si deve viaggiare, si deve andare a selezionare, si devono creare rapporti stretti con i contadini perché lì ancora oggi è sempre più importante una parola che un foglio scritto perché questo è importante le relazioni poi nel tempo fanno sì che i contadini riescano sempre a trovare un cacao migliore ad aiutarti anche a cambiare alcune cose che poi sono necessarie per realizzare il cioccolato. Quindi è complesso perché comunque il fatto di doverci spostare, dover andare a scegliere? Diciamo un percorso molto lungo e complesso, non è come il vino che chiaramente si fa trovando l'uva che comunque è qui da noi, o lì veramente si deve andare in paesi diversi, lontani e oggi forse è un pochino più semplice, ma immaginate quando sono partita io 30-35 anni fa quando ancora non esisteva internet e si andava direttamente alle ambasciate a cercare i nomi dei contadini, delle piantagioni eccetera. Diciamo che abbiamo creato il cioccolato ma anche come trovare i semi di cacao. Chiaro. E Magis SPA, quali progetti ha nell'immediato? Nell'immediato certamente per noi c'è sempre la crescita e lo sviluppo, che non è solo verso andare alla ricerca di nuovi clienti, ma sicuramente è ancora prima, è una crescita e uno sviluppo assolutamente interni, al nostro interno, quindi l'ottimizzazione dei processi, la personalizzazione, sempre la maggior automazione, quindi per non lasciare nulla al caso, quindi quando noi individuiamo o troviamo un nuovo cliente, che noi la ricerca di nuovi clienti si fa tanto per conoscenza, quindi fidelizzazione, perché queste caratteristiche per noi, come anche penso per la Metro Chocolatier, sono fondamentali, quindi noi non lasciamo nulla al caso, cerchiamo di costruire davvero il processo logistico, davvero dall'inizio alla fine cercando di coprire tutti gli aspetti, quindi sicuramente una crescita e uno sviluppo interni che poi ci possa portare chiaramente a uno sviluppo verso i terzi, quindi sempre alla ricerca di nuovi clienti, ma anche di nuovi settori che non sono più l'alimentare, che possono essere il farmaco, dove siamo entrati da poco, possono essere la cosmesi, che sono settori in realtà anche in forte sviluppo, cercando però sempre di restare nella nostra nicchia, quindi nella nostra nicchia di specializzazioni, di specialità. Ottimo, e la situazione diciamo, tra virgolette, di emergenza che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, ha avuto qualche influenza sulla vostra attività? Le dirò, fortunatamente per noi sono stati due anni sicuramente faticosi per il rispetto di tutte le nuove normative, per il cambiamento comunque di un mondo, ma noi avendo la fortuna tra virgolette di trattare prodotti alimentari, noi siamo cresciuti con la nostra attività comunque e questo ci ha anche consentito di ripensare i processi, ripensare alla struttura, migliorare, ottimizzare, quindi noi l'abbiamo presa sicuramente come una sfida che pensiamo comunque di avere vinto e che quindi ci può consentire di ripartire e di migliorarci sempre. E invece per un metro cioccolatino, il fatto dell'avere il limite di non poter fare i viaggi? Certo, per questo è stato un grosso problema, io che in questo periodo, anche negli ultimi anni, mi sono dedicata anche alla consulenza e alla docenza, ho avuto sicuramente dei problemi perché soprattutto a livello internazionale non era più possibile muoversi, quindi si è lavorato molto con il computer, facendo magari dei videoconferenze, però non è lo stesso come andare, toccare, spiegare le cose, c'è bisogno comunque sempre di un rapporto vicino ai prodotti alimentari. Certo, e la docenza è rivolta a? Allora, io avevo fatto degli accordi, come nel passato avevo mantenuto, con alcune università straniere e poi avevo anche trovato alcuni clienti a livello internazionale che volevano che io potessi insegnare a loro come fare il cioccolato. Alcune cose sono riprese, altre con la pandemia si sono bloccate, ecco, questo sicuramente è stata la cosa più dannosa che ho avuto in questo periodo. Per il resto poi dove volevo creare di nuovo questa piccola azienda e quindi ci siamo dedicati fortemente a far partire questa. E questa piccola azienda è nata recentemente? Sì, è nata recentemente, a fine novembre del 2021. Bene, e quindi diciamo che programmi avete nell'immediato futuro? Allora, noi vogliamo concentrarci sulla far conoscere questo prodotto e la mia idea è di arrivare molto al cliente finale, quindi dedicando la vendita online e in canali particolari. Inoltre abbiamo creato in una proprietà che abbiamo una grande piantagione di albero di nocciolo e quindi anche la nocciola sarà una cosa che entrerà a far parte dei nostri prodotti che nel tempo riusciremo a lavorare e a fare moltissimi prodotti, non solo quindi il cioccolato. Fantastico, ne riparliamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione in compagnia di due donne che vivono il mondo dell'impresa con molta passione, no? Ecco, Angela Marazzina, qual è la storia di Magis SPA? Magis SPA come nome, l'azienda nasce non tantissimi anni fa perché è frutto di una fusione di altre società, ma certamente la nostra attività ha origine da una storia familiare molto lunga. Dicevo prima, mio padre è l'ultimo di nove fratelli, tutti, quasi tutti, i maschi, nati come quindi cresciuti nel settore degli autotrasporti, sviluppatosi poi sia in un'attività anche di movimento terra, poi c'è stato un periodo quando c'è stato il famoso sviluppo immobiliare in cui tanti si sono occupati di questo settore, abbiamo costruito tantissimo nel sud Milano, nel Lodigiano eccetera, ma poi ci siamo concentrati davvero, precisamente dal 1998 abbiamo acquisito questa grande area a Pavia, sono circa 100.000 metri quadri di superficie territoriale su cui sono dislocati circa 40.000 metri quadri coperti e abbiamo iniziato a sviluppare questa attività di logistica andando a acquisire dei clienti, noi abbiamo due clienti davvero che per noi sono storici, ci occupiamo di loro quindi crescendo insieme a loro e curando per loro tutta l'attività di logistica che arriva fino alla distribuzione in Italia ma anche all'estero da circa 30 anni, quindi questa è un po' la nostra storia e da qua ovviamente andiamo avanti e proseguiamo. Ecco, Angela Marazzini ha spesso insiste sul fatto che il loro servizio di logistica è un servizio tailor made, cosa significa? Esatto, questo mi piace sottolinearlo perché il nostro pay off aziendale creato qualche anno fa è I love my job, questo vuol dire, mi ricollego al fatto del servizio tailor made, perché di aziende di logistica in Italia e nel mondo ce ne sono davvero tantissimi e di concorrenti ce ne sono davvero tanti, quindi noi riusciamo come piccola media azienda sul tessuto italiano a restare e consolidarci e crescere appunto perché noi abbiamo un servizio davvero personalizzato e creato ad hoc per il nostro cliente e quindi non abbiamo questo servizio industrializzato come probabilmente fanno le grandissime aziende, quindi probabilmente i nostri clienti si affidano a noi anche perché sanno di trovare questo tipo di servizio. Indubbiamente, indubbiamente. Ecco, invece il servizio del cioccolato? Il servizio del cioccolato anche quello può essere dal mio punto di vista tailor made tailor made se lo identifichiamo lavorando con piccoli batch, quindi piccole quantità di cioccolato la possibilità di realizzare proprio il cioccolato del nostro desiderio, quindi il gusto particolare quindi collaborando con me, venendo nel mio atelier dove possiamo far assaggiare profumi alcuni pezzetti di cioccolato particolari, alcuni semi crudi, tostati alla fine io riesco a percepire quello che la persona vorrebbe perché comunque il cioccolato è una grande coccola e di conseguenza se uno mangiando un tipo di cioccolato riesce a ricordare con la sua memoria quello che è avere il cioccolato preferito dell'infanzia perché spesso il cioccolato è sempre associato a momenti di gioia da bambini anche e soprattutto, quello sarà il cioccolato della sua vita come un profumo, come il profumo che ci sentiamo bene addosso No ma tanto più che negli ultimi anni le varietà che troviamo sul mercato sono molto ampie cioè il cioccolato è stato abbinato, non so vabbè, all'arancio direi che è un classico cioccolato ripieno di arancio, ma anche il peperoncino è stato abbinato al cioccolato certo, poi con la frutta secca, i pistacchi, le mandorle, la nocciola però effettivamente oggi c'è tantissimo cioccolato nel mondo io mi ricordo quando sono partita erano 10-12 le aziende italiane che producevano cioccolato e in alcuni paesi all'estero non esisteva, oggi è molto più sviluppato e allora io mi sono chiesta, dopo tutta l'esperienza, dopo tutto il know-how, tutta la parte di conoscenze che ho devo fare un altro percorso, devo andare ancora avanti e voglio creare il cioccolato di domani questo è il mio cioccolato e cosa sarà il cioccolato? sarà un cioccolato fatto da me con passione e con amore ma dedicato alla persona che si rivolge a me per avere il suo cioccolato e quindi questo è l'intento di questa piccola azienda, fare dei cioccolati particolari ma anche dare la possibilità a una persona, come si può scegliere un profumo, va da un sarto a farci un abito particolare può venire da me e io rifaccio questa grande coccola l'abbinamento col profumo mi piace, io per esempio sono una che cambia molto il profumo nel senso che ci sono periodi della mia vita in cui mi va un profumo e periodi della mia vita in cui assolutamente me ne va un altro e rinnego il passato chissà se nel cioccolato sicuramente sì, anche il cioccolato perché anche il cioccolato si mangia in maniera diversa a seconda se è la mattina, il pomeriggio, la sera quando siamo con gli amici si condividono alcuni gusti altri ce li teniamo per noi c'è tutta una magia nel mondo del cioccolato e io ritengo veramente che è un prodotto che ha dato tanto ma che è ancora molto da esplorare ecco, una curiosità da donna economica da donna dell'economia diciamo la materia prima c'è il rischio della carenza della materia prima nel campo del cacao? allora, negli ultimi anni si è parlato di questo perché sicuramente ha aumentato molto di più il consumo c'erano paesi dove il cioccolato non si conosceva che oggi comincia a essere quindi acquistato e mangiato secondo me, dal mio punto di vista c'è una grande consapevolezza maggiore anche nella coltivazione quindi si sta molto più attenti ai protocolli alla salvaguardia chiaramente delle specie e quindi secondo me non ci saranno questi problemi è aumentato molto di più il consumo a livello internazionale e questo fa sì che bisogna selezionarli meglio e trovarli con più attenzione chiaro ecco, e la nostra Magis SPA avrà delle attività collaterali oltre alla logistica? assolutamente, sì noi per conto dei nostri clienti seguiamo anche tutte quelle attività che noi chiamiamo lavorazioni quindi che possono essere i vari confezionamenti re-packaging eccetera che ovviamente su richiesta dei nostri clienti programmiamo nell'arco di tutto l'anno certamente ci sono dei periodi in cui i nostri clienti essendo stagionali come il cioccolato piuttosto che determinati prodotti del beverage ovviamente abbiamo dei periodi dell'anno che sono le campagne natalizie e quelle pasquali in cui davvero il lavoro è veramente tanto la programmazione che è una delle caratteristiche fondamentali dell'attività di logistica deve essere assolutamente attenta questo sicuramente quando mia figlia era piccola e mi divertivo moltissimo con il coniglietto pasquale per cui quando veniva Pasqua io disseminavo ovunque i pezzi di cioccolato solo che mia figlia che è una ragazzina intelligente vedeva che la mamma che lavora tantissimo arrivava all'ultimo momento lo andava a comprare al supermercato e quindi poi disseminavo non so tipo il Kinder le ovette di cioccolato con il cartellino attaccato allora a un certo punto si è domandata dice ma forse il coniglietto pasquale non esiste questa qui è banalmente la mamma e quindi li ho fatto perdere la magia quanto è importante il packaging nel mondo del cioccolato specialmente in un atelier come il tuo allora è molto importante ma è anche secondo me basilare far vedere bene l'etichetta gli ingredienti che ci sono scritti quindi essere veramente corretti perché nel prodotto alimentare non bisogna ecco nascondere niente quindi se una crema spalmabile è fatta senza grassi vegetali sicuramente va spiegato che non sarà morbida come una crema con i grassi vegetali sarà un pochino più dura basterà riscaldarla un attimo però il gusto è completamente diverso e il packaging sicuramente è importante perché è il vestito che noi diamo al nostro prodotto che tanto abbiamo fatto con passione e quindi il primo impatto del cliente deve rimanere stupefatto anche di questa bellezza chi volesse entrare in contatto con Magis SPA sicuramente può andare sul web www.magispa.it dove ci trova può trovarci sicuramente può mandarci una mail alle mail che ci sono individuate sul sito e noi tranquillamente daremo tutte le informazioni può navigare sul nostro sito dove assolutamente spieghiamo processi sistema di lavorazione e tutto quello il sistema informatico che utilizziamo perché tutti i nostri processi sono automatizzati quindi può trovare assolutamente tutte le informazioni che servono e chi volesse entrare in contatto con la prima maître cioccolatia al mondo sicuramente in internet tutte le informazioni si possono trovare il nostro sito è www.ceciliatessierirabassi.net e poi ci sono tutte le informazioni per mandare le mail quindi questo in maniera molto semplice è possibile entrare in contatto qual è un motivo per cui le aziende dovrebbero rivolgersi a Magis S.p.A.? sicuramente perché facciamo il nostro lavoro da sempre con grandissima passione è questo è la cosa più importante perché i consumatori coloro che amano il cioccolato le appassionate del mondo del cioccolato dovrebbero rivolgersi invece a Sicilia a Tessieri Rabassi beh perché sicuramente non li deluderò perché il mio cioccolato lascerà in loro un segno e perché effettivamente non dobbiamo mangiarne molto cioccolato ma quello che si mangia deve essere fatto bene e con ingredienti iperselezionati anche perché il cioccolato ha dei benefici non indifferenti no? aumenta la serotonina fa dormire di più insomma mette gioia è proprio un prodotto quando è fatto bene è proprio un prodotto green healthy quindi un prodotto veramente interessante che va dosato fin da bambino a piccoli fino ad arrivare insomma mia figlia è una delle più grandi estimatrici e consumatrici di cioccolato bene bene sono i consumatori del futuro quanti anni ha? mia figlia ha 4 anni si chiama Celeste e mi considera la dottoressa del cioccolato non nel senso perché io lo curo secondo lei il cioccolato perché quando viene in azienda vede che e quindi mi chiama sempre la dottoressa del cioccolato io ringrazio le mie ospiti spero che sarete ospiti ancora di questa trasmissione saluto tutti i telespettatori e a presto in collaborazione con Centurion Payroll Service il payroll outsourcing al servizio della tua azienda